Ciao Paola, benvenuta, grazie, piacere di conoscerti, grazie. Buongiorno, Anna Lisa Scarrone, buongiorno. Merci, merci beaucoup. Ci inoltriamo in questi corridoi labirintici, andiamo, per CERN. Il CERN è il posto dove c'è il più grande esperimento scientifico al mondo, si chiama LHC, è una macchina di tutti i record, perché si trova 100 metri sotto terra e contemporaneamente il posto più freddo e più caldo dell'universo. Ecco, stiamo varcando la soglia del corridore dei teorici, hanno due piani, sono la minoranza i teorici, però sono quelli che, caos creativo totale, però sono quelli che vanno avanti, che ti dicono quale macchina costruire, perché questa è l'ipotesi migliore da verificare, sai, sull'origine dell'universo si va veramente nel buio, e quindi loro con la matematica trovano. Ciao, ma si respira quell'aria lì, ecco, sono tutti delle teste pazzesche, ecco, vedi, ogni ufficio è diverso, chi ha la luce, perché poi passano qua tutta la notte questi scenicoli che vedono domenica e sabato, loro sono sposati con la fisica.